Benvenuti nel mio canale. Cosa succederà nel nuovo episodio di Udutsu Zsevda? Non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche. Fikret addempirà al compito affidatogli da Ileto e ucciderà Alil? Fikret sa benissimo che se uccide Alil, verrà uccisa anche Zeynep. Alil è l'unica persona che proteggerà Zeynep. Ecco perché non uccide Alil. Si siede con lui e fa un patto per distruggere Ileto. Chiede a Zeynep se vuole restare con Alil o tornare dalla sua famiglia. Ma sa benissimo quale sarà la decisione di Zeynep. Il desiderio di Zeynep di restare con Alil non è stata una sorpresa. Anche se Fikret non lo dice a Zeynep, segretamente pensa che Zeynep abbia preso la decisione giusta. Anche se Ileto sono arrabbiati perché Zeynep è con lui, non c'è più niente da fare. Alil fa irruzione nella miniera di Dur sul Leto. L'unica cosa che resta da fare a Ileto è stringere un accordo con Alil e i suoi amici. Alil dice che vuole condividere tutto a metà. Questa sarà una decisione difficile per Ileto. Perché dice che se non accettano, si prenderà tutto. Anche i suoi amici si chiederanno in cosa confida Alil e come abbia potuto fare un'offerta del genere a Letos. Alil è un soldato delle operazioni speciali. Dietro c'è lo Stato. L'obiettivo è sconvolgere l'ordine che si è instaurato nella regione e rivelare le attività illegali di tutti loro. Il primo dovere di Alil era porre fine all'oppressione del popolo nella regione e stabilire un nuovo ordine. I tuoi commenti e i tuoi mi piace sono molto preziosi per me. Non dimenticare di mettere mi piace al mio video e di attivare le notifiche. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.